E' possibile salvare Dog Day? E' possibile salvare Gatnab? Bene, oggi lo scopriremo! Ma cosa aspettate? Anche il mio nuovo libro è un pericolo molto strano per salvarlo ragazzi Prendetelo ora il libro di Yamma anche su Amazon, vi lascio il link sotto in descrizione E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo E stanno girando dei video dove fanno vedere che è possibile salvare Dog Day, Gatnab e Miss Delight Ma sarà così? Sarà vero? E' possibile? Eeeh, io che Gatnab e lo so ragazzi Siamo qui per scoprirlo, quindi se volete salvare anche voi Dog Day e dargli di nuovo le gambe Lasciate ora un mi piace, cliccate il tasto iscriviti e attivate la campanellina Iniziamo Come stavo dicendo, stanno girando video dove Dog Day è come se risuscitasse Ria le gambe Ho qualche strano sentimento che siano delle mod, però una cosa è certa Possiamo salvare il nostro cagnolino preferito e il nostro gatto non preferito? Facciamolo! Ah, rieccoci su un po' più playtime, io avrò completato il gioco qualche 40 volte come minimo E siamo ritornati da Miss Delizia Ma stavolta possiamo deliziarla con un po' di hacking Ah, Miss Delizia, guarda, posso volare Però insomma lo scopo appunto è quello di tentare di salvare tutti Quindi prima di tutto salviamo Miss Delizia Sia che avrà mangiato qualche 40 torte Ma fa niente Miss Delizia Ti amiamo anche se sei un po' gorda Cioè, presumo di sì Allora, prendiamo questo E che la lotta contro Miss Delizia per salvarla Appenizio Allora, vi spiego qual è il mio piano Noi la bloccheremo con le hack Prima che noi chiudiamo la porta Vediamo se riusciamo a salvarla Pronti? Via! Vai, fatto! Miss Delizia Calma, ti ti prego Oh no! No, signora maestra! Prometto che studierò Ma sei bloccata Signora maestra, mi scusi Ragazzi Ma sei bloccata Non cammina Ma come? Ragazzi ma non mi insegue Cioè, se mi avvicino Probabilmente neanche mi fa del male Come non detto? Mi fa del male All'inizio ci ho sperato Allora ragazzi Ho saltato direttamente a questa parte Dove ci dovrebbe essere Lei che corre verso di noi Esattamente questa Ora dovrebbe spuntare dentro di me Sì, è spuntata dietro di me Non capisco perché non si muove Mi sembra molto strano Miss Delizia Ma si vuole muovere Signorina Si è buggata Ragazzi la signorina si è buggata Proviamo Proviamola a salvare ugualmente Mi ero spaventato Pensavo fosse arrivata Allora Se io ora faccio così Abbasso la leva Fermo il gioco Con questo tasto Così Ok Oh no, no È troppo lento Abbasso la leva Abbasso la leva Abbasso la leva Guardate a rallenti Ti salvo Miss Delizia Ok ragazzi Per salvarla No, è tutto Così a rallentatorre Sta arrivando Sta arrivando Con calma Toglilo Sì l'ho tolto Ho tolto la saracinesca Quindi lei ora è salva No? Eh Ma che cosa è successo? No Miss Delizia Ma io volevo salvarla Ma poverina Ma l'abbiamo completamente rotto il coll No Aspetta un attimo Che te lo rimetta a posto Con la Colla Ragazzi Ho tentato a salvare Miss Delizia Ci siamo riusciti Quasi Diciamo Fifty fifty Cinquenta e cinquanta Vabbè ragazzi Io adesso con le H Posso fare di tutto Perché posso anche togliere Gli oggetti È sparita Scappa 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 Vuol dire che è viva Vuol dire che è viva Vuol dire che è viva Aiuta 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 Ok ragazzi Prima missione Quasi compiuta Andiamo alla seconda Allora Dobbiamo andare Stavolta A salvare Il nostro Dog Day Dog Day Quanto tempo Lui Non ha avuto una fine Che si meritava Gli dobbiamo ridare Le gambe Gli dobbiamo ridare La libertà Perciò Cosa succede Se io elimino Le catene Di Dog Day Ma anche se riesco A spostarlo Perché teoricamente Io posso No non cadere Ma che sei scemo Io teoricamente Posso spostare Gli oggetti Cioè Posso prendere Un qualsiasi oggetto Tipo Sta cosa A scuola Fare così E spostarlo Così guardate E rimane qui Però capite Posso fare Di tutto Perciò Salviamo Il nostro Carissimo Cane Del giorno Vai Dog Day Sono qui Per te Ma facciamo Una cosa Più semplice Io potrei Utilizzare Questa pistola Per eliminare Smiling Critters Ma se L'eliminassi Direttamente Vieni qua Ma Ma perché Non mi attaccano Allora Questa è una roba strana Mi dovrebbero attaccare Che sono diventato Una divinità Mi sa proprio di si Ragazzi Vabbè Ma così È Troppo facile Adesso Io sono diventato Veramente Il king Di questo gioco Con tutti i video Che sto portando E con tutte le cose Che sto facendo Ormai Gli smiling Critters Dicono Basta È finito Troppe volte Il gioco Non ti vogliamo Più attaccare Quindi Adesso che Loro Hanno me Come divinità Posso semplicemente Dirgli Non attaccate Dog Day Dog Day Un cane buono Vero Posso farlo Dimmi che posso farlo Dai Eccoci qua Siamo giunti Siamo arrivati A lui Allora Mi avete detto Di fare due cose Prima cosa Ci sono delle celle Vicino Allora Io aumento La luminosità Un attimo Ok Ci sono delle celle Vicino a me Mi avete detto Lorenzo Prova ad entrare In una cella E vedi Se Dog Day Quando cammina Ti killa Angelo Sei nella casa Di Cutnap La loro casa Ora un milione Di occhi Sono puntati Su di te Fatevi sotto Fatevi sotto Ragazzi Io devo essere Pronto A salvarlo Perciò Sapete cosa faccio Mi rinchiudo Da qualche parte Mi rinchiudo Qua dietro Va bene Facciamolo ora Ok Sono qua dietro Vediamo cosa succede Appena mi attacca Dog Day Compagno di Ciela Che cosa hai fatto Per essere qui Hai per caso Rubato un cellulare Due poppy Potete rimediare Ma non posso Sono dietro le sbarre Finisci questa pazzia Oh no Sono arrivati No poverini Per favore Non gli fate del male Ok 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 Sta succedendo Sta succedendo Vediamo Ho spaccato tutto Cos'è sto suono Ok Ok allora Dog Day Mi può chillare Se mi metto Dietro una cella Ma com'è possibile Rieccomi Proviamo a fare Un'altra cosa Proviamo a salvarlo Prima Togliendo Togliendo le catene Vediamo cosa succede Se togliamo le catene Al nostro Cane del giorno Secondo me Non lo salveremo Così Però Tentare non Nuoce Nel caso Nuoce moltissimo Se non ce la faccio Allora Riproviamoci Devo mettere Pausa Ok Ho messo pausa Dobbiamo solo togliere Le catene Pronto No No L'ho sbagliato Allora Riproviamoci Allora Ho capito che Se faccio così Elimino lui Invece io non devo eliminare lui Devo eliminare le catene Non mi fa eliminare le catene Togliti Sto eliminando mezzo mondo Ma le catene Non me le fa togliere Ragazzi Perché non me le fa togliere Perché forse sono Parte di lui Può essere No Io ti volevo salvare Togday Ok Cerchiamolo di salvare In un altro modo Eliminiamo tutti I smile and critters Uno a uno Eccole Eccole Le elimino Sto cliccando Per eliminare Ma mi sto eliminando tutto No Togday Oh no Ma Togday è invisibile Mi sa di sì Ehm Allora Mettevoci d'accordo Togday Allora Non esiste più Le catene si sono spezzate Ma non siamo riusciti ancora A salvarlo Mannaggia Come facciamo a salvarlo Come Allora Noi sappiamo che i smiling critters Non si possono eliminare Noi sappiamo che le catene Non si possono eliminare Ma Io ho un potere Ho un nasso nella manica Perché possiamo spostare I singoli oggetti Perciò Possiamo spostare Dogday da qualche altra parte Dogday da qualche altra parte L'ho preso Ragazzi l'ho preso Ma non so dove lo sto portando Dogday Dove sei? E' qua A caso L'ho spostato qua Va bene Va bene ci posso provare In un altro modo Oh ce l'ho Allora ragazzi Dobbiamo portarlo sopra Ce la facciamo volando Dogday vieni con me Ok ce la possiamo fare Dobbiamo portarlo via di qua Dogday ti salveremo No scusa Scusa Dove lo porto ragazzi Dogday Qui Lo porto qui Vieni con me Bravo Ora Rimannici L'ho salvato No dogday Cosa sta succedendo No ma io ti ho salvato Ti ho fatto rimanere fermo qui Io ti salvo ed è così che mi ringrazio Ragazzi Pensavo di avercela fatta Invece no Cioè lui mi può seguire ovunque Non ci credo Mamma mia Ok ho capito ragazzi Non siamo riusciti a salvare il nostro dogday Proviamo a salvare almeno cutnap Eliminando il prototipo Fatto Due Uno Vai 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 colpisci Colpisci Si E ora Vediamo La sua distruzione Ragazzi Non mi fa uscire di qua Però devo fermare il tutto Ok fermati Ci abbiamo la scena Ragazzi Dobbiamo salvarlo Lui fa così Ho un modo per salvarlo 3 2 1 Ti salverò Ti salverò Ok Ho bloccato tutto Che cos'è questo È una palla Ma sono io Ma sono io Sono diventato una palla Com'è possibile Sto fatto Elimina No No ragazzi Devo muovere il mouse Come faccio Cutnap Sono impossibilitato Nel muovermi Vai Mano Cosa succede Cosa succede Cutnap Cutnap Ti salverò No Perché Perché Mo ti prenda Pugni 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 No E sarà andata La palla Dai Ma così Ragazzi Ci abbiamo provato Ok ragazzi Io direi che Questo video Su Pop Pugni M3 Lo posso anche Concludere qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Per nulla Iscrivetevi al canale Se non l'hai ancora avuto Lascia un sacco di pollicioni in su Con il vostro Lorenz E se è tutto E noi ci vediamo In un prossimo video E Ciao